Mamma, mamma, papà, se ti va la prossima parte, vado al nord. Eh, che viaggio Gigi, come va? Tutto a posto? Ok, hai perso il dialetto? Eh, dopo quindici anni. Eh, dopo quindici anni. Mamma mia, dopo tanti anni. Hai visto? Mamma, che viaggio. Qualsiasi cosa che hai bisogno non fai altro che chiedere, eh? Ma no mamma, se non mi sentite perché è tutto a posto. Va, va, sto lavorando. Dormi in albergo. Ciao Alessandro, ti senti bene? Endrillo, ho dormito male. Ascolta, ho bisogno di santo. Stasera risolverò tutto, non ti preoccupare. Davanti al box auto mio ci sono degli escrementi di cane che lei non ha ancora pulito. O probabilmente non ha neanche avuto voglia di pulire, visto che voi al sud siete abituati così. Amore, posso entrare? Salve, lei è Alessandro. Piacere, piacere. Pino, dei asfutto. Complimenti, benvenuto nella nostra dieta. Pian Grazie a tutti.